Ciao a tutti, ben ritrovati da Filippo Gianni Trading Facile, la nostra videoanalisi settimanale su principali mercati e le strategie dei nostri trading system. Oggi è martedì 14 maggio 2019, siamo ormai in chiusura di sessione, parliamo del Fuzzi Mib. Prima di iniziare però volevo ricordarvi i prossimi appuntamenti che ci vedranno protagonisti, cominciando da giovedì 16 maggio, tappa di Pescara, del roadshow organizzato da Bing Bank. Quindi mi raccomando appuntamento da non perdere una giornata totalmente gratuita per parlare appunto di mercati finanziari in un format particolarmente innovativo. Quindi mi raccomando iscrivetevi, potete trovare il link o sulla descrizione di questo video, oppure andando sul nostro blog www.treninfacile.com slash blog trovate qui il link per iscrivervi al roadshow di Bing Bank. Inoltre vi ricordo che manca un mese, meno di un mese, ormai editi forum, sono aperte le iscrizioni, quindi mi raccomando non perdete 12 e 13 giugno prossimo, questa occasione è imperdibile, due giorni di incontri e conferenze, anche qui giornate totalmente gratuite, quindi per parlare di mercati finanziari, insomma migliorare la propria formazione in materia. Quindi andiamo sul grafico del Futsimib, abbiamo osservato nel corso delle ultime sessioni una correzione particolarmente significativa per quanto riguarda appunto il principale listino di piazza affari, se vi ricordate appunto ci eravamo lasciati, con il mercato che stava facendo fatica a superare quota 21.500 punti, se vi ricordate appunto vi segnalavo appunto come indizio di una probabile, di probabile inizio di una correzione, proprio quello che era stato il respingimento di tre livelli associato a quelli che erano stati i volumi più alti delle ultime due settimane, quindi già un primo inizio insomma poteva essere, diciamo, venire interpretato in questa maniera analizzando l'annamento sia dei prezzi quanto dei volumi, successivamente abbiamo avuto a che fare con quella che è stata una dinamica di prezzo particolarmente significativa e se vi ricordate anche qui avevo segnalato appunto quest'area come potenziale area di riacquisto dove cercare dei pattern a sostegno di quella che poteva essere un'ipotetica ripresa del trend long, però se osservate quelli che sono stati appunto quella che è stata in particolare la dinamica di prezzo di questi due giorni nei quali il mercato ha scambiato su area 20.500 e 20.750, vedete che non c'è stato un segnale appunto di inversione al rialzo, ma anzi abbiamo assistito ad una candela resistiva, quindi una candela appunto che sembrava lasciar presagire una possibile inversione tuttavia non confermata né la sessione successiva caratterizzata, lo vedete qui, da una candela inside, quindi a range ristretto e di contro da un successivo break dei minimi che quindi ci ha segnalato come la pressione dei venditori sia ancora alta in questo momento e quindi appunto, ripeto, non ci sono al momento i segnali appunto di una ripresa degli acquisti, ma anzi, proprio questa dinamica su quello che è un livello particolarmente significativo a mio avviso, ossia la rottura del supporto di 20.500 punti confermata ieri in close, alimenta ora più di un dubbio su quella che potrebbe essere la prossima dinamica di prezzo, sempre in ottica rialzista, perché? Perché a mio avviso il mercato con questa mossa ha dimostrato che, ripeto, la pressione in vendita è alta e quindi nonostante la dinamica odierna caratterizzata da questo possibile pattern anch'esso rialzista di tipo a RAM, segnale di inversione di tipo non primario quanto piuttosto secondario in base appunto ai dettami di analisi tecnica, però ritengo che a mio avviso anche qualora insomma ci fosse una effettiva reazione da parte del mercato, quindi qualora ci sia un'estensione insomma di quella che è stata la ventata, diciamo così, di acquisti odini, ritengo che ora a quota 20.750 possano di contro tornare a farsi vivi i venditori e quindi su questi livelli possano tornare a manifestarsi sul mercato i venditori per quella che potrebbe essere invece una prossima ondata di vendite, perché? Perché ripeto abbiamo più di un inizio insomma che ci fa propendere come ora lo scenario sia cambiato, se facciamo uno zoom out su quella che è una dinamica di prezzo un pochino più alta, qui diciamo eccolo ve l'ho cercato di schematizzarla diciamo con questo rettangolo e questo elvis, il mercato lo vedete qui ha completato quello che è un modello cap with handle rovesciato, modello che in genere è un modello di accumulazione, perché lo troviamo ai minimi del mercato, più difficile trovarlo ai massimi del mercato come modello di distribuzione, però in questo caso modello completato con la rottura di quota anche qui 20.500 punti, quindi ecco in congruenza con quello che era stata l'analisi insomma sulla price action giornaliero, giornaliero e quindi ripeto a questo punto diciamo vengono alimentate le possibilità di assistere ad una correzione più ampia, in questo caso insomma ecco quello che mi attendo è una prima mossa che posso andare a ritestare il supporto posto a quota 19.750 punti e in seconda battuta quello che è il supporto che ritengo supporto particolarmente significativo e prossimo dal vero supporto significativo posto a quota 19.500 punti. Per vedere appunto invece di contro un mercato che diciamo cercherà di recuperare terreno e quindi per avere insomma una qualche alimentare, una qualche speranza appunto di ripresa appunto del trend, bisognerà comunque sia per forza di cose avere innanzitutto un recupero di quota 20.800 punti, dopodiché insomma sul successivo pullback dovremmo osservare importanti acquisti in area 20.500 punti, quindi avremo bisogno di vedere una mossa di prezzo caratterizzata da acquisti significativi in area 20.500 punti per andare ad invalidare quello che è lo scenario attuale che ripeto vede diciamo l'indice italiano in difficoltà crescente. Andiamo adesso come al solito a commentare alcune operazioni svolte dai nostri trading system nel corso delle ultime sessioni, in particolare quella che volevo farvi vedere è la prima operazione aperta appunto nella giornata di ieri in apertura proprio sul break di quota 20.440 punti, quindi come insomma sapete, ormai l'avrete capito che per quanto riguarda il trading sugli indici azionari, le prime ore in particolare la prima ora ha sempre un forte impatto su quello che è il resto della seduta, in questo caso l'algoritmo individua appunto un segnale short proprio sulla rottura di questo supporto effettuato durante la prima ora di contrattazione, la posizione in questo caso viene mantenuta overnight e effettuiamo appunto la ricopertura della nostra posizione nella giornata appunto del 14 di maggio, quindi domani successivo a quota 20.295 appunto su questa apertura, la vedete qui, in lap up da parte del mercato. Anche qui operazioni da parte di un differente trading system, anche qui abbiamo sfruttato come la prima operazione la dinamica di prezzo favorevole appunto dal lato short, quindi entrando in vendita a quota 20.400 punti, in questo caso siamo usciti in tesura di sessione cash a quota 20.185, mentre nella giornata appunto odierna abbiamo provato a rientrare al mercato lato short, su quella che è stata la dinamica anche qui dei primi minuti di contrattazione, vedete come però il mercato ha fin da subito, fin dalle prime mattute mostrato appunto volontà di effettuare acquisti in questa sessione e quindi abbiamo preso un piccolo stop e siamo stati buttati fuori dal mercato, in questo caso appunto con tuttavia con una perdita limitata di 10 punti. Le ultime operazioni che vediamo, anche qui prima operazione molto simile da parte di un ancora un altro trading system diverso, anche qui stessa dinamica, qui entriamo un pochino più in ritardo al 12.25 a quota 20.330, chiaramente in vendita, mentre in questo caso però l'osservazione appunto di un time frame differente ci permette di entrare nella sessione appunto del 14 maggio alle 10.15, lato long questa volta sfruttando quella che è già una direzione appunto in un qualche modo definita da parte del mercato in ottica long e quindi in questo caso entriamo al mercato chiaramente lato long e anche qui usciamo a metà sessione portando a casa 60 punti in acquisto, oltre insomma ai 150 che avevamo portato a casa il giorno prima in vendita. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento da non perdere con il show di Bink il giovedì 16 maggio a Pescara, link per iscrivervi, evento gratuito, link per iscrivervi sulla descrizione del video oppure visitando il nostro sito e blog www.trainingfacile.eu Anche per oggi è tutto, un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti!